Uomini e donne, anticipazioni, Andrea dubita sulla di Nicole e lascia lo studio. Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende dell'atronista Nicole. La quale si ritroverà ancora una volta al centro dell'attenzione e delle dinamiche in studio. A poche settimane ormai dalla scelta finale. E, questa volta, Nicole dovrà fare i conti con i dubbi e i sospetti da parte del corteggiatore Andrea. Il quale metterà in discussione il modo di fare dell'atronista. Spazio anche alle vicende di Claudio e Carla che, in queste nuove puntate del talk show previste a maggio in tv, si ritroveranno ai ferri corti. Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne svelate in anteprima da Lorenzo Pugnaloni a Blasting News. Rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena legati alle vicende di Nicole. L'atronista, ad un passo ormai da quella che sarà la sua scelta finale in trasmissione. Si ritroverà a dover affrontare la crisi del suo corteggiatore Andrea che, ad oggi, sembrava essere il super favorito per la scelta finale in studio. Andrea avrà un vero e proprio momento di crisi, al punto da dire all'atronista di avere diversi dubbi su quella che sarà la sua scelta finale. Il motivo? Andrea sostiene che Nicole, al termine di questo percorso a Uomini e Donne, possa decidere di fare una scelta comoda che la porterebbe a coronare il suo sogno d'amore con Carlo. Dato che lui le ha già detto che direbbe sì. Andrea, invece, fino a questo momento ha sempre messo in discussione la sua risposta finale. Sostenendo di essere alla ricerca di conferme che fino a questo momento non gli sono state ancora date. Ecco perché Andrea inizierà ad avere dei sospetti sul modo di fare dell'atronista. Un episodio che avverrà in studio, scatenerà il caos. Sì, perché nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne di questa settimana, Nicole deciderà di concedersi un ballo in studio con Carlo. La reazione di Andrea sarà furiosa, il ragazzo, infatti, infastidito e amareggiato dall'atronista deciderà di lasciare lo studio. Sostenendo di non riuscire a vederli insieme in quel modo. Spazio anche alle vicende di Claudio e Carla, le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione rivelano che i due si ritroveranno ai ferri corti in trasmissione. E, dopo aver scelto di dirsi addio e troncare la loro frequentazione, si lasceranno andare ad una serie di offese reciproche. Claudio, ad esempio, dirà a Carla che deve farsi curare, scatenando la reazione contrariata della dama del trono over.